Buongiorno amici, bentornati sul canale, continuiamo a martellare sugli stipendi. Abbiamo fatto il confronto Italia-Irlanda, adesso ve lo posso fare Italia-Francia. Stiamo utilizzando sempre la stessa figura, un consulente, uno che lavora per un'azienda tipo Accenture, Deloitte, PwC, Ernest & Young, una persona che presumibilmente ha fatto 3-5 anni di università e è stato assunto come consulente, può aver studiato economia, ingegneria, quello che volete. Allora, vi riporto la testimonianza di tale Federico che sotto il mio video, quello dell'Irlanda, dice, io te ne ho laureato in una delle Big Four, quindi una di queste grandi aziende di consulenza, a Milano prendevo 25.000 lordi con 12 ore di lavoro al giorno e ogni tanto anche nei weekend, più reperibilità anche in ferie. Dopo due anni sono fuggito in Francia, dove già tanto si lavora 4 ore al giorno, ovviamente 7 ufficiali, ma lui intende dire che non c'è questo carico di lavoro esagerato che ti porta a fare più di 8 ore al giorno. Più ferie che in Italia e stipendi di 36.000 più benefits. Lo avessi saputo, sarei andato via prima. Ed è per questo che c'è questo canale, perché voglio dirvelo, voglio farvelo sapere, specialmente se non siete ancora entrati nel mondo del lavoro o ci siete dentro e non sapete. Voi dovete sapere come vi fottono in Italia a livello di stipendi, primo, a livello di tasse, secondo, poi potremmo fare terzo a livello di disservizi, ma quello è un argomento ancora più lungo e più... cioè disservizi, discriminazione, stronzate di questo tipo, quello non finirebbe più sto video. Quindi, l'importante per me è direvi che questo Federico in Italia con 25.000 l'anno prendeva, al mese, prendeva 1.511 euro netti, ok? Su 12 mesi d'età. Mentre in Francia con 36 ne prende 2.338, quindi una differenza di 829 euro per, presumo, lo stesso ruolo, che poi ha detto 36 più benefits, quindi potrebbe essere anche un 40. 90.000, comunque c'è una differenza di 830 euro tra lavorare in Francia e in Italia. Per curiosità, poi io sono anche andato a guardare quanto paga, io prendo sempre Accenture come esempio, che è un'azienda conosciuta da tutti, molto importante, quanto paga Accenture in Francia e da quello che vedo un junior consultant, consultant junior in media, paga, qua si parla però di Parigi, ho messo, ma perché poi mi dite, eh, costa di più, costa di meno. 42.000, scusate, 43.800 lordi, che, togliamoci la curiosità, 43.800 in Francia sono al mese in tasca, 2.740, ok? Questo sarebbe lo stipendio di un junior consultant a Parigi, poi se andiamo a guardare su Google, anche Google ci dice che l'average salary per un junior consultant è 41.000 euro all'anno a Parigi, Francia, che è 6% o meno della media di un average Accenture salary di 43.800, quindi quadra questo risultato, e poi cosa dice? Ma sì, quindi queste sono un po' le cifre, ragazzi, come al solito, numeri alla mano, dati di fatto, comparazioni, siamo Francia e Italia sono una di fianco all'altra, Parigi e Milano sono praticamente uguali come costo della vita, quindi la differenza invece è nello stipendio e nelle tasse, tasse più alte, stipendi più bassi, italiano inculato. Al prossimo video, ciao!